Salve a tutti, bentornati su Radius 23. Questo è sempre post Nebula Live e a distanza di una settimana esatta ho il piacere di ospitare ancora una volta un amico, un ricercatore con il quale a me piace proprio condividere determinati argomenti perché secondo me ha il modo giusto, ha il piglio giusto per fare ricerca che non è quello di dispensare più che altro risposte facili o teorie, più che altro quello che dispensa sono altre domande, altri punti di riflessione dove ognuno di noi poi può fare la propria ricerca. Sto parlando chiaramente di Davide Cristallo. Ciao Davide, bentornato. Ciao Marco, buonasera, è di nuovo un piacere, è sempre un piacere ma guardate quanto è bravo questo vostro presentatore visto che sto sul canale tuo. Tipo Paolo, mi è uscito presentatore. No, perché apprezzavo la presentazione che hai fatto e ti voglio fare i complimenti in diretta. Dovete sapere che in una community come un po' tutte dove c'è poi tra di noi che facciamo un po' le stesse cose ci si parla un po'. Ecco, quando si chiede di Marco Radius si sente sempre parlare bene e questo non è poco, per cui veramente. E poi io pure ti seguo, ultimamente ho sentito quella con Silver nel Vuti, devo dire che apprezzo pure, perché a volte uno apprezza, cioè ci si sofferma sempre sull'intervistato, che ovviamente pure Silver ha detto un sacco di cose intelligenti, ma le domande che fai, le domande che fa quello che sta dall'altra parte pure, sono interessate. A volte possono essere o banali oppure possono dare molti spunti, le tue sono sempre del secondo tipo, quelle che danno molti spunti. Grazie, un bellissimo complimento, lo accetto perché so che sei un amico che parli col cuore, quindi insomma lo accetto ben volentieri. Spero di non deluderti con le domande di oggi, insomma, perché se no la so fregato da solo, quindi spero proprio di no. Saluto pure tutti gli amici che ci guardano, che vedo pure... Assolutamente sì, che già sono tanti, è sempre un piacere insomma vedere una bella risposta da parte del pubblico. Allora, oggi parliamo un po' di argomenti, come dire, un po' particolari, no? Perché c'è una serie di cose che si sono concatenate, secondo me bisognerebbe analizzare anche dal tuo punto di vista, perché come dicevo prima, sei abbastanza analitico da questo punto di vista, mi interessa proprio sapere cosa ne pensi. Partiamo proprio dal fatto che esiste appunto questo famoso oggetto, no? Che è passato da noi, tra l'altro è apparso mi sembra il 19 di ottobre del 2017, fu registrata la sua presenza dall'osservatorio che sta nelle Hawaii, e questo oggetto ha attraversato praticamente il sistema solare ad una velocità più o meno di 92.000 km orari, e ha lasciato non poco perplessi sia agli astronomi sia agli addetti al lavoro, perché chiaramente insomma presentava una serie di anomalie uniche, insomma qualche cosa che veramente non si era mai visto prima, innanzitutto la forma, no? Perché a questa forma a sigaro, stiamo parlando chiaramente di Oumuamua, purtroppo c'è sto nome particolare, però è un nome hawaiano. Stavo cercando di ricordarmi da dove arrivava, perché gli avevano dato quel nome, ma non mi torna. Sì, mi sembra che significhi il messaggero, se non erro, in hawaiano proprio, quindi Oumuamua dovrebbe essere questo il senso, se non erro, e poi magari qualcuno della chat ci potrà confermare o meno se è veramente così. Comunque, insomma, diciamo, ha questa forma strana, no? Perché è una forma oblunga, praticamente una forma a sigaro. L'accelerazione, tra l'altro, è molto strana perché era troppo elevata, almeno per essere spiegata come attrazione del Sole. Il fatto che ogni oggetto nel Sistema Solare, tra l'altro, dovrebbe in genere avere una orbita circolare o ellittica, no? Insomma, non si era mai visto nulla del genere all'interno del Sistema Solare. Tu che idea ti sei fatto di questo oggetto, Davide? Ecco, vedi, stavo quasi per scrivermi, perché ho detto, mi viene in mente una cosa, se non mi dà la parola me la scordo, e mi stavo scrivendo Fionda Gravitazionale, cioè alcuni, sapete, allora, però non voglio perdere la tua domanda, quindi che idea mi sono fatto io? Ecco, una delle ipotesi che alcuni hanno dato in ambito scientifico per cercare di giustificare proprio quello che hai detto tu, cioè che hanno registrato un'orbita non naturale, sostanzialmente, quindi non coerentemente uniforme, ha fatto degli spostamenti poi a accelerazioni strane, alcuni dicevano, in ambito scientifico, hanno trovato a spiegarlo con il concetto di Fionda Gravitazionale, che è sempre una sorta di attrazione gravitazionale, ora lo dico un attimo meglio, ma in questo caso esercitata dalla forza stessa della Terra. Che cos'è la Fionda Gravitazionale? Che può effettivamente e viene usata in alcune manovre aerospaziali proprio per cambiare l'orbita, perché a volte i voli spaziali, per esempio, non sono proprio come li immaginiamo, noi immaginiamo il raggio che parte e arriva così diretto, no? Invece il pianeta gira, l'altro pianeta o asteroide dove si vuole atterrare ugualmente è in movimento, quindi le manovre sono complesse. Una manovra di arrivo, io ho sempre, come vedi, grafica 3D e super effetti speciali per dimostrare, però diciamo, una grafica di arrivo potrebbe essere la seguente, questo è il pianeta, questo è il veicolo, non arriva così come nei film, ma magari fa un percorso di questo tipo, si avvicina e poi atterra, proprio per rallentare, altrimenti ci andrebbe addosso troppo velocemente, quindi arriva in zona, rallenta e atterra. Invece la Fionda Gravitazionale che cos'è? Quando si vuole invece di atterrare e prendere velocità, per andare altrove, per esempio, si passa vicino ad un pianeta o comunque un corpo con una grande massa e lo si usa, diciamo, se io volessi fare così per fare una curva e poi andare verso di là, invece di farla con i miei soli motori nello spazio vuoto, sfrutto il fatto che lì c'è un pianeta che un po' mi attirerà, calcolo in modo che non vengo risucchiato dall'attrazione, ma comunque ne ricevo una spinta che mi aiuta ad andare nella nuova direzione e da lì fionda gravitazionale. Alcuni dicevano che questo oggetto avesse potuto fare le strane manovre secondo questo effetto. Alcuni però, e io posso essere più di questo parere, ma solo perché mi ricordo che in quel periodo ho ascoltato le varie tesi e non sembrava neanche molto convincente questa ipotesi della Fionda Gravitazionale, ma lì è coloro che fanno questi calcoli. Alcuni li contestavano questi calcoli e altri dicevano appunto che poteva essere un oggetto invece con una sua propulsione e quindi con una sua volontà, diciamo, o dell'oggetto o di chi c'era evidentemente dentro. E quindi da lì l'idea che l'ufologia si è sperza in quel momento nel dire tante. Poi io non lo so, se vuoi ti ripasso la palla, non voglio spoilerare, però la butto lì per i nostri amici, poi se vuoi la racconto. Per esempio, adesso è passato qualche anno, però alcune fonti dell'ufologia, forse se non sbaglio direttamente quello che ormai è un po' chiacchierato per vicende di tribunale, Corey Good, aveva detto che addirittura parte della flotta segreta c'era andata e aveva scoperto delle cose. Il famoso Solar World. Sì, esatto. E quindi poi loro danno tutta un'altra versione, raccontano un sacco di cose. Poi magari ne parliamo perché mi interessano anche questi aspetti di altri ricercatori che tu magari conosci molto più approfonditamente di me. Intanto cerchiamo di dargli un'occhiata a questo oggetto perché secondo me ne vale la pena. Allora, questo è praticamente il famoso Oumuamua, almeno questo, perché poi non è stato mai fotografato realmente. Questo è un po' quello che si pensa che sia dai rilevamenti, da tutto quello che siamo riusciti ad avere come dati radar. Insomma, questa è la traiettoria dal 2016 e c'è effettivamente, se tu guardi la traiettoria che lui prende all'interno del nostro sistema solare, effettivamente c'è un'anomalia proprio sia nell'entrata che nell'uscita, ma soprattutto nella velocità, perché anche nella velocità d'uscita sembra che ci siano state delle cose che non potevano essere legate ad un semplice asteroide. Si è parlato di tutto, si era anche parlato all'inizio... O l'inversione AU, praticamente. No, poi tra l'altro si era anche parlato addirittura all'inizio di un oggetto probabilmente di ghiaccio che quindi passando davanti al Sole, essendosi sciolto, avrebbe avuto maggiore spinta, però anche questo poi è stato rispinto proprio dagli scienziati stessi perché dice che un qualcosa del genere si dovrebbe essere staccato da Plutone, se non sbaglio, cioè considera che Plutone di queste sostanze ne ha soltanto il 5%, come fa a staccarsi una massa così grande che dovrebbe essere solo quello? Cioè non ha senso. E quindi insomma è stato... Però insomma quello che vediamo è effettivamente un'orbita quantomeno strana, non torna proprio. Allora possiamo dire che per certo è confermato da scienziati del calibro anche di Seth Shostak, che è un astronomo del SETI ad esempio, che disse appunto che non si era mai visto un asteroide a forma di sigaro, prima di tutto. Tra l'altro è lungo circa 200 metri, a largo 20. E la cosa più strana è che sembra riflettere la luce 10 volte di più di un qualsiasi altro asteroide, come se avesse una superficie che permette questo tipo di riflessione. Quindi già questo fa pensare a qualche cosa di meccanico. Comunque la cosa più strana rimane sempre che diciamo mentre si allontanava dopo essere passato in picchiata dal Sole, l'oggetto ha accelerato più velocemente di quanto potrebbe essere. E quindi insomma non si può parlare neanche di presa gravitazionale galante della nostra stella, del nostro Sole. Questo chiaramente ha indotto anche un astrofisico di tutto rilievo che tu conosci benissimo che stiamo parlando di Heavy Lab che tra l'altro insomma insegna all'Università di Harvard a dire che probabilmente si trattava appunto di un oggetto che aveva una propulsione intelligente. Quindi lo ha detto proprio spassionatamente. Dice abbiamo avuto la prova che esiste vita nello spazio. Potrebbe secondo te essere una sonda, una nave visto che insomma le caratteristiche sono tutte quelle insomma a meno queste sembrano. E volevo chiederti volevo chiederti anche nello specifico tu che insomma hai avuto proprio ecco rapporti con Corey Good con Michael Salla loro ne hanno mai parlato? Ci sono pronunciati in merito? Cosa ne pensano? Allora sì secondo me poi insomma aggiungo credo un dettaglio aveva anche una sorta di rotazione ogni X ore sì che questo è tecnicamente cioè potrebbe anche far pensare un altro dettaglio tecnico perché come da tante immagini che ormai abbiamo visto in tanti film pensate a quando ci fanno vedere le future avanzate stazioni spaziali le vediamo sempre roteare e non per caso perché? Perché con quella pensate sempre alla forza centrifuga al cestello della lavatrice utilizza ovviamente più è grande la struttura e più non abbiamo bisogno di farla girare con una gran velocità però otteniamo questo attrito quindi il roteare e quindi anche quell'oggetto se compieva delle se compiva delle rotazioni ehm poteva indicare il fatto che servivano per eventualmente all'interno avere una gravità questo come eventuale dato da poter dare a supporto di quella di quella tesi invece andando proprio in la seconda parte di quello che mi hai chiesto cioè che cosa ne hanno detto come ti dicevo anche Michael Salla sicuramente ne ha parlato e anche Michael Salla sicuramente si era fatto poi l'idea che quello fosse un oggetto alieno diciamo così e non di natura completamente naturale perché quello che ci hai fatto vedere tu anche se è quello che si dice un rendering cioè l'immagine a computer fatta da tutti i dati che ci avevano a disposizione però si vede ovviamente il classico asteroide che come hai detto tu di solito gli asteroidi sono roccia ghiaccio detriti quello e quello sembrerebbe invece ecco Michael Salla in quel caso poi adesso come ho accennato ci sono state vicende tribunali cose nell'ufologia americana ci sono state delle scissioni e adesso raccontano cose diverse ma a quel tempo invece i due collaboravano anche e come ti ho detto prima se non sbaglio ecco Ray Good che comunque è quello che era Michael Salla è comunque diciamo uno di noi in realtà viene da un passato anche lui ha collaborato con enti dell'esercito anzi ci ha lavorato proprio però adesso fa il ricercatore diciamo ha un suo canale propone delle cose invece con Ray Good uno ha il diritto di crederci o meno però si è presentato proprio come uno appartenente a quei reparti e quindi è lui che ha raccontato che all'interno appunto delle flotte della flotta segreta del Solar Warden e di quella che lui chiamava la Dark Fleet ci sarebbero andati proprio a visitare quindi nel senso avrebbero preso un'astronave un velivolo e sarebbero andati sarebbero riusciti ad atterrare sul come hai detto tu asteroide di 200 km quindi bello grosso c'è tutto lo spazio diciamo per atterrare bisogna esserne capaci ma chissà quelli che tecnologia hanno sempre se prendiamo tutto questo per fattibile e da lì quello che raccontano è molto particolare perché dicono ci raccontano qualche cosa che somiglia molto a alcuni racconti dell'interno della luna anche lì se prendiamo per buono certe menzioni che raccontano la luna cava artificiale eventualmente e piena di attività in questo stesso senso o mua mua questi che dicono insomma secondo la versione di Corey Good ci sono atterrati su e sono entrati dentro verificando che era niente meno che un'antichissima astronave gigantesca abbandonata che da quello che hanno potuto capire le squadre quindi qua ti racconto quello che racconta Corey Good ci avrebbero trovato avrebbero trovato proprio le prove sai pannelli portati via intere strumentazioni cannibalizzate quindi avrebbero capito che è veramente tanto che la nave è abbandonata e che altri già prima di loro l'avevano trovata e spolpata passatemi il termine e ci hanno trovato linguaggi che non hanno conosciuto e anche riconosciuto e qualche linguaggio invece che ricordava quelli antichi del nostro pianeta ma non quelli egizi o sumeri quelli del Sud America per esempio cosa che ricorre anch'essa e quindi hanno spiegato che era in tutto e per tutto un'astronave da fuori scusatemi all'interno però da fuori era sostanzialmente ora non so dire se come dire una roccia scavata per costruire l'astronave all'interno o il contrario un'astronave rivestita di rivestimento roccioso proprio anche come dire come camouflage come mimetizzazione però erano giunti a questa conclusione qua che poi mi sembra che si parli anche di una luna di giove che sembra essere insomma qualche cosa di un po' particolare mi sembra che ne parlò proprio Salla è canimede forse come? canimede? forse era canimede sì adesso non ricordo quale sinceramente perché l'ho lessi parecchio tempo fa questo argomento che era abbastanza interessante dove appunto parlava di una struttura che esternamente sembrava effettivamente un asteroide ma internamente insomma questo ricorda un po' non ricorda un po' la famosa luna cava poi magari un giorno faremo proprio una puntata sulla luna che secondo me ce n'è parecchio da dire sulla luna quindi insomma magari ne parleremo molto approfonditamente dell'argomento senti adesso è uscito fuori questo secondo oggetto no? molto molto simile a Umoamoa che sta attraversando di nuovo il nostro sistema solare è sempre un oggetto interstellare quindi viene sempre dall'esterno è più o meno della stessa forma ma è il doppio come grandezza perché insomma parliamo di un mostro di 400 e rotti metri insomma quindi è qualcosa di molto importante anzi guarda io vi faccio vedere le prime immagini che hanno rilevato proprio alla NASA così insomma ci rendiamo conto anche di che cosa stiamo parlando che sono le uniche immagini che sono riuscito a trovare di questa eccola qua questa sarebbe la famosa come vedi insomma stiamo parlando sempre di un oggetto molto lungo e si sviluppa tutto in lunghezza anche questo quindi è molto molto simile a Umoamoa e tra l'altro anche esso ruota diciamo ruota sul suo asse a una rotazione mi sembra completa ogni nove ore e dovrebbe essere appunto addirittura l'hanno paragonato come grandezza alla grandezza dell'Empire State Building insomma quindi parliamo di 450 metri circa quindi praticamente il doppio dell'altro anche questo sta attraversando bellamente il nostro il nostro sistema solare ora ti confesso che non le avevo viste le immagini di questo eh sì sono riuscito veramente a tirar fuori queste immagini infatti anche per questo perché poi sono fresche fresche queste immagini sono uscite da qualche giorno e sinceramente proposte proprio dalla NASA era interessante insomma vederlo tra l'altro queste sono state riprese fatte dall'osservatorio del Ciorro proprio della NASA e chiaramente poi le hanno messe online quindi sono andato a vedere però insomma quello che ti voglio dire non si era mai visto un oggetto interstellare di quella forma e di certe caratteristiche nella storia nella nostra osservazione del cielo ora in poco più di cinque anni ne intercettiamo due possiamo dare merito al fatto che abbiamo migliorato il nostro modo di osservare il cielo oppure può essere un qualche cosa un po' più sospetto non il fatto che guarda caso arrivino queste due forme particolari che fanno pensare molto ad un astronave o a un qualche cosa di intelligente che potrebbero far sorgere anche qualche sospetto visto che poi da chi viene divulgato insomma poche volte è arrivata la verità guarda mi prenderei un minuto in più per rispondere perché sai magari diciamo qualcosa di utile per chi è interessato a queste all'osservazione astrale nel senso vero del termine del cielo perché a volte abbiamo una concezione magari che non è del tutto corretta quindi provo a riassumere e non sono io la persona più esperta però vi dico due dati che magari vi chiariscono le idee per esempio tu adesso hai detto no prima questo è dato dal fatto che forse prima non eravamo non avevamo tanta capacità di vedere il cielo è sicuramente vero la tecnologia adesso se parliamo dipende capito lo spazio temporale di decennio in decennio di sicuro la tecnologia fa passi da gigante quindi esploriamo sempre più cielo infatti è vero che fino a pochi decenni fa asteroidi molto piccoli che comunque potevano creare bei danni ci sfuggivano cosa che è nota nella storia infatti sono arrivati mi penso a Tunguska per esempio no? ah sì di cui nessuno se n'era accorto praticamente e comunque ha sdraiato mezza foresta come dire e per fortuna che era foresta ecco cioè mi dispiace per gli alberi ma insomma molto meglio che in mezzo al centro di una città però dove volevo arrivare non è che noi adesso lo vediamo il cielo perché è vero che si fanno passi da gigante è vero pure che però nell'arco temporale che ci interessa a noi quindi in questi cinque anni non è che è cambiato tanto voglio dire che un oggetto di quelle dimensioni 200 chilometri o 400 chilometri lo vediamo metri 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 ah scusa metri vabbè stavo dicendo neresia l'ho detta pure prima mi sa però ugualmente oggetti così grandi cioè per oggetti piccoli si intende pure oggetti come una macchina o veramente come una palla da baseball perché pure quelli creano danni però dicevo la nostra capacità di osservare il cielo per quanto anche ci sono tante notizie si continua e sempre di più ci sono anche il Vaticano spende sempre sui nuovi telescopi e aumenta la capacità quando poi sentite gli astronomi che parlano vi dicono che noi osserviamo perché quel telescopio poi più va in lontananza e più come dire ristringe il campo per cui è il contrario di quello che pensiamo nel senso quando vediamo quelle enormi foto delle galassie però sono appunto prese da lontano a loro a noi come umanità interessa di capire le caratteristiche dei singoli pianeti dei singoli sistemi solari che osserviamo e per fare quello io ora banalizzo non è vero che ne osserviamo uno per volta però poche centinaia per volta se vedete la volta celeste fate finta che sia il mio schermo poi vi rendete conto che c'è a noi il telescopio oggi osserva negli ultimi dieci anni abbiamo studiato immaginate che questa sia l'ampiezza abbiamo studiato questa fetta del cielo negli ultimi dieci anni e capite cioè non siamo in grado di vedere tutto però ti aggiungo un'altra cosa se vuoi un'altra ipotesi il fatto che ne siano arrivati due come dici tu da fuori del sistema solare in questo ultimo periodo ci sta con qualche cosa che sta cioè con con tutto quello che accade a livello galattico che per una volta non è un modo di dire ma in senso proprio scientifico cioè noi siamo abituati e sentiamo tutti i giorni il meteo terrestre poi esiste un meteo solare che monitora l'attività del sole e non so neanche se si chiami più meteo insomma però viene monitorata dagli astronomi c'è un'attività che interessa la parte nostra della galassia e tiro via un dato che unisce le cose quando si dice anche la famosa canzone quando si dice che siamo entrati nell'era dell'acquario quando si diceva che nel 2012 c'era qualcosa che cambiava era proprio di questo che si parla come hai fatto vedere tu prima quella bella immagine noi giriamo intorno al sole ma lo stesso sole viaggia nell'universo e se dovessimo individuarci noi noi siamo in un braccio anche abbastanza esterno della galassia in una in uno dei bracci in questa zona dove siamo noi dove stiamo ora percorrendo c'è parecchie attività c'è molto plasma sono zone fortemente energetiche ci siamo già dal 2012 appunto e nella galassia né ma neanche appunto nella galassia non ci interessa proprio al di fuori del nostro sistema solare le stelle vicine i soli vicini hanno comunque tutte le loro i loro sistemi più o meno stabili ora faccio per dire da noi c'è un qualche cosa che in realtà è molto poco comune che è la fascia degli asteroidi è poco comune perché è dovuta a uno scontro tra due pianeti all'interno del nostro sistema solare però ce ne sono di fasce di detriti in giro se tanto cioè potrebbe anche essere che come dire ecco perché dicevo prima quella parola a livello di meteo di questa zona della galassia se c'è un po' di smottamento qualche equilibrio si è spostato come ve la banalizzo in tanti film vediamo l'astronave che scappa e a un certo punto c'è la pioggia di meteoriti come piove da noi la pioggia normale ecco può accadere c'è un meteo ci sono delle condizioni variabili anche a quel grande livello che ovviamente non cambiano tutti i giorni perché i tempi cosnici sono diversi per cui noi nella nostra vita non è che ci accade di vederlo dieci volte una pioggia di meteoriti magari accade sulla terra dico per dire una volta ogni duemila o diecimila non lo so tiro a caso per cui sì però quello che mi viene da pensare no se andiamo ad analizzare anche questi ultimi cinque anni visto che ci sono passati in mezzo questi due asteroidi uno che lo sta attraversando adesso uno nel duemiladiciassette insomma che lo ha attraversato fino a duemilaventi abbiamo visto prima la disclosure della marina militare no? poi le addirittura l'approvazione del pentagono alla disclosure della marina militare poi abbiamo visto questi due oggetti interstellari con sta forma strana insomma che attraversano il nostro sistema solare e che non era mai successo prima ultimamente insomma i famosi tre o quattro oggetti abbattuti come se nulla fosse dai caccia americani telegiornali talk show giornali che all'improvviso prendono diciamo in maniera più seria prendono seriamente gli avvistamenti insomma non ti è mai venuto ad esempio a te il sospetto che possa essere una gigantesca psy-hop per altri scopi e se magari ecco l'hai pensato quali potrebbero essere questi scopi secondo te? posso fare prima una battuta? assolutamente tu hai detto una gigantesca psy-hop e mai cosa fu più vera gigantesca nel senso che è partita nel 47 quando e notate l'assurdo quando hanno buttato giù un vero disco volante e ci hanno raccontato che era un pallone sonda adesso dopo 70 e passa anni buttano giù il pallone sonda e ci dicono che è un ufo hanno girato la cosa che non cosa diceva un amico mio comunque c'è veramente qualcosa di strano che sta andando un po' strano comunque è stato strano anche questo se mi permetti tu hai citato il famoso caso che comunemente è chiamato quello degli ufo tic tac cioè quelli che hanno confermato il pentagono e l'air force tra parentesi nello stesso medesimo periodo in cui il presidente più piacchierato d'America aveva appena dato il via la space force o comunque insomma più o meno quel periodo la cosa che forse dovremmo che è questo l'elefante gigantesco che ci passa nella stanza e noi siamo lì a guardare la mosca perché ripetiamolo un attimo a favore del cervello l'America non io non Marco non un altro canale dello youtuber di turno il pentagono e l'America ha detto e ha fatto vedere loro hanno fatto vedere le foto di questo cioè del fatto che hanno inseguito due affari che pure lì roteavano a una velocità l'abbiamo detto nell'altra live mi sembra pazzesca però non è che la gente come nei film di Will Smith è scesa in piazza strappandosi ah mio Dio non mi sembra proprio io ce l'ho con i pomodori con il riso per cui mi immagino sempre la signora di casa che hai visto che sono arrivati da lei sì è vero perché una volta sta cosa mi è capitata tu dai delle relazioni scioccanti ma quindi hai capito che ti ho dimostrato che esistono sì lo so ma ce l'ho da fare i pomodori con il riso per cui adesso forse ci siamo veramente abituati a tutto Davide sì capisci per cui veramente se domani arrivano tipo film questi governi potrebbero pure dirci ma che volete l'abbiamo detto abbiamo fatto dei video qual è il problema l'abbiamo già detto e non potremmo davvero fare per cui la domanda era che cosa sta succedendo tu dici perché tutto questo sì se magari questa Psyhop ha un senso al di là del fatto perché secondo me c'è un paio di spiegazioni come dici tu come hai detto adesso magari perché hanno informazioni che a breve ci potrebbe essere un contatto e quindi in qualche modo ci stanno avvicinando a quest'idea o altrimenti magari perché devono semplicemente creare una nuova emergenza tanto per cambiare perché poi sai è un attimo e qui potremmo parlare del Blue Beam e faremo sicuramente alle 4 di mattina quindi però insomma le spiegazioni più o meno possono essere queste se la vediamo da un punto di vista un po' più terrestre sicuramente questi fanno sempre questi per dire insomma chi sta al potere fanno sempre cose multiproposito per cui poi ecco veramente no quelli come noi intendo anche chi ci segue che ormai hanno fatto i compiti a casa conoscono l'agenda non 2030 ma quella che era già quella del 2020 che raccontava quelle cose quelli che li hanno fatti meglio i compiti si ricordano pure il piano Calergi che era già degli anni 50 dove si diceva tutto questo era tutto programmato in un certo senso a grandi linee poi chiaramente il piano più uno va avanti più prende forma poi nessun piano sopravvive al campo di battaglia perché dall'altra parte c'è una popolazione da costringere e infatti come dire il tempo è variabile ma le idee erano chiare e pian piano sanno benissimo dove vogliono andare per cui l'hanno fatto sicuramente con un insieme di propositi anche banalissimamente per fare come fa il prestigiatore guarda questa mano mentre l'altra fa veramente il trucco in questo periodo sono successe pure delle cosette tipo lo dicevamo sempre con te mi sa l'altra settimana sversamenti di materiali vinilici tossici in America ma non solo il Nord Stream eccetera eccetera insomma quello che era di tirare fuori Hirsch che chiaramente è andato sotto al tappeto poi a volere fare i cattivi insomma con tutto quello che è successo invece in Turchia ma di questo non spollerare perché di questo parliamo ampiamente insomma parleremo anche di questo della terra del nucleo che si sta fermando che si sarebbe fermato insomma su questo io vorrei sentirti chiaramente c'è Francesco che invece fa una domanda dice ma è bene o male essere abituati a tutto secondo te a mio avviso è bene se ci stiamo avvicinando veramente ad una ad un incontro fra culture fra diverse civiltà è un male se ci stanno abituando perché devono portarci a una visione contorta e creata ad hoc per per magari farci poi metterci tutti sotto una specie di campana di vetro no tu che ne pensi Davide? Ne penso in questo seguente modo credo che a volte purtroppo questa sembra una frase tanto brutta se non capita bene però io la trovo comunque sia una realtà mi spiace e credo che ognuno dotato di questa medesima facoltà lo possa comprendere cioè in una misura è vero che la nostra capacità di pensiero quindi pure di ragionamento è collegatissima alla nostra capacità di linguaggio se noi non siamo capaci no non abbiamo quella proprietà tecnica non sappiamo di cosa stiamo parlando ma lo prendo solo come esempio per dire che a volte ci perdiamo nelle parole e vorrei rispondere all'amico come era Francesco siamo abituati è bene o è male essere abituati a tutti abituati in che senso nel senso di a suo fatto come uno che è abdrogato ed è abituato alla droga quello è male o abituato nel senso del monaco Shaolin che è abituato a prendere a cazzotti pure la pietra e lo rafforza quello è bene quindi abituato a sue fatto o abituato resistente non è bene quello che io vedo nella popolazione noi siamo abituati a sue fatti nella popolazione ecco non siamo abituati resistenti quindi in questo senso la vedo così ecco sì sono sono perfettamente d'accordo senti tra l'altro alcuni ricercatori stanno un po' cercando di mettere insieme i pezzi ho visto che ci sono alcuni che stanno facendo le correlazioni tra questi avvistamenti di questi due oggetti con altre cose che sono accadute più recentemente non il fatto ad esempio che il nucleo della terra sembrerebbe essersi fermato il famoso terremoto in Turchia e Siria tra l'altro c'è stata questa seconda scossa 6.8 anche proprio qualche giorno fa anche questa volta anche questa scossa è stata preceduta da questi famosi lampi di luce tra l'altro la scossa sembra che sia stata ad una profondità circa di 16 chilometri ma secondo te ci può essere veramente una correlazione fra tutti questi avvenimenti? Sì e mi trovi straordinariamente preparato perché alcuni sanno che io provavo a scrivere un libro che in realtà adesso è un po' fermino con le quattro frecine da qualche tempo però ora ci rimetto mano ma in realtà veramente ho avuto paura di avere ragione quando io ho sentito di questo terremoto perché perché non sarebbe una cosa di cui essere contenti di avere ragione perché in quel caso si prevederebbe parecchi smottamenti però sì io vedo tranquillissimamente mi spiace è la mia opinione di uno che non è un sismologo non è un geologo io sono uno vale uno sono essere umano dico la mia in quanto tale però cioè come dire tutti abbiamo un cervello e possiamo usarlo per ragionare io che non sono un esperto di terremoti sapevo che c'era il terremoto sussultorio il terremoto ondulatorio e ho sentito parlare ai telegiornali di della terra che si è aperta per 15 metri non ho sentito dire diversamente 15 metri intendo di larghezza poi per 150 chilometri con i risultati che tutti abbiamo visto e veramente io non posso non pensare a tutta quella gente veramente che non capisco io sono rimasto indietro nel tempo io non capisco ancora come la gente possa fare questo capito e dire amici buonasera purtroppo anche stasera siamo a documentare sale a 80.000 morti e comunque adesso passiamo a buona notizia striscia notizia io veramente non capisco come si possa perché viviamo in un mondo che ormai è tutto fast è tutto easy è tutto smart abituati a questo è male che ci siamo abituati certo a questo è male ma io qui apriva tante di quelle finestre stavamo in un modello quello maschilista che era sbagliato prima le donne purtroppo contavano pochissimo ed era sbagliato era un modello sbagliato ma ci ha portato fino a qui ed era un modello adesso il modello è non c'è modello vale tutto che ti permetti di offendermi perché io faccio sesso con le lavastoviglie come ti permetti sa cioè che una volta gli avrebbero messo la camicia di forza e qui ci vuole la misura non ci vuole la camicia di forza ci vuole l'equilibrio purtroppo poi la prossima volta mi dimostri come si fa sesso con una lavastoviglie perché sarei curioso no no ma sono sicuro che troveresti qualcuno pronto a dimostrare figurati pur di farsi notare figurati non ne ho dubbi non ho dubbi eh invece adesso capito io sono il più alternativo di tutti ho sentito un comico che diceva sono bianco eterosessuale ateo senza tatuaggi ormai sono via d'estinzione praticamente comunque tornando alle cose serie ovviamente ho scordato la domanda che mai mi fa no la domanda non ho scordato per niente scusatemi no è perché sono tutte collegate queste cose secondo me e anzi ahimè che ecco poi vado sull'ironico insomma sdrammatizzo diciamo così perché non sono affatto preoccupato e quando faccio questi discorsi non è mai per mettere paura nelle persone però torno alle cose serie a quello che hai detto tu sì ci sono tanti scienziati in più punti del globo parlo della Russia parlo del Giappone parlo della Cina in America ci sono persone forse non tanto scienziati ufficiali ma ricercatori e altri insomma la tesi gira molto di che cosa di quello che hai detto tu dell'ipotesi che porterebbe poi allo slittamento eventuale del campo elettromagnetico terrestre la famosa inversione dei poli e questo partirebbe con quello che alcuni dicono che stia succedendo cioè si starebbe fermando il nucleo interno questo potrebbe dare una spiegazione a praticamente tutto quello che tu hai detto perché all'interno del nucleo la parte solida con la parte di magma liquido creano proprio anche in generale il nostro campo elettromagnetico ma sfregando creano delle frizioni che quando aumentano si vanno a vanno a sovraccaricare di quello che poi banalmente è elettricità statica sapete quella di no quando fate così ecco però in enormi quantità la parte alta dell'atmosfera non solo quello che vi ho detto prima io è assolutamente vero cioè questo è dimostrato dagli scienziati non è la teoria di qualcuno siamo in una zona della galassia fortemente ionizzata ci sta tutto il sistema solare quindi questo immaginate il pianeta che viaggia con tutta l'atmosfera che lo protegge a gran velocità c'è un attrito dato dalle particelle spaziali il vento solare le radiazioni tutto quello che c'è nello spazio che vuoto non è e più l'attrito aumenta e più c'è quello che viene proprio chiamato un termine che le donne conoscono benissimo scrubbing elettromagnetico che può portare proprio a quello che stiamo vedendo anche anche nel momento del terremoto ma se ci fate caso la nostra semplice osservazione nostra personale lo chiedo alla chat a chi ha voglia di risponderci anche a te è vero o no che quando eravamo piccolini noi ci divertivamo pure no? vedevamo vedevamo il lampo e aspettavamo prima la luce poi il suono come fisica vuole invece adesso non succede sempre tante volte vediamo la luce e tutum non c'è perché? perché quel tutum finale era lo scarico a terra era il fulmine che arrivava a terra e rompeva l'atmosfera letteralmente no? si inseriva tra le molecole a quella velocità tanto da fare pure quel suono ma se e questa è una prova di quello che vi sto dicendo quei fulmini invece quindi le luci la parte luminosa viene creata in così alta atmosfera ma non arriva a scaricare a terra voi avete questo effetto qua vedete la luce ma non sentite il suono quindi questo poi il fatto che questo terremoto sia di un addirittura guarda però questa cosa io l'ho sentita sui classici canali di ufologia ma ci invitavano a controllare bene qua ci vorrebbe un sismologo i dati che abbiamo in nostro possesso terrestre perché l'alieno di turno diceva parlo di un canale se volete la citazione che si chiama Cosmic Agency dove c'è una ragazza che tu conosci bene polacca che ha contatti con dei pleiadiani a suo dire già da tanti anni e da quella fonte arriva guardate che se studiate bene i dati di questo terremoto voi vedrete che si evince che non è di natura classicamente naturale da lì o addirittura indotto e provocato oppure potrebbe essere il fatto di tutto quello che abbiamo la conseguenza di tutto quello che abbiamo detto perché uno dei fenomeni che ci dice la scienza che potremmo rivedere se il nucleo interno si ferma è un oscillamento delle placche in superficie e quello che ci descrivono è proprio un distaccamento di una placca tettonica quello che sarebbe successo in Turchia e se mi permetti e ti ridò la parola ci aggiungo che effettivamente un'altra notizia che io ho dato insomma non è che l'ho raccontato tutti i giorni ma di sicuro ne ho parlato forse anche due siamo tra i pochi canali pure di quelli alternativi che hanno raccontato l'iceberg che invece se ne era staccato già uno gigantesco forse ormai quasi un anno fa ma poco meno di un anno diversi mesi fa si era staccato un iceberg che dicevano e descrivevano grosso come Manhattan 1270 km2 più per 3 km di spessore e anche quello quando mi va a finire nella corrente del golfo la raffredda vedremo che succede e adesso se ne è staccato un altro bel pezzo grande quello succede sul ghiaccio ma sulla terra ovviamente il ghiaccio non ha radici la terra se ne affonda fino a giù quindi non si stacca via un pezzo e se ne va a viaggiare però dovete immaginare tutta quella massa di terra che sopra fa una crepa come se noi volessimo quasi tentare di staccare una zolla poi la zolla rimane là ma quello è successo e potrebbe essere in correlazione con questi eventi che stanno accadendo e che ovviamente chiudo seppure io avessi ragione io io non so nessuno io racconto cose ma se quegli scienziati avessero ragione ovviamente se tu fossi i capi dei governi ti metteresti a strillarlo ai 420 popolazioni andate nel panico non ci potremo fare nulla anzi con loro magari si preparano e con noi ce la vendiamo come sempre vendiamo agricoli certo tra l'altro c'era Roberto che chiedeva se secondo te ci poteva essere anche una correlazione col famoso i famosi video che circolano di questi animali che vanno in circolo in maniera io guarda ti devo dire una cosa sinceramente io proprio un mese e mezzo fa più o meno guardavo il tramonto e mi rendevo colto che mi sembrava almeno che fossimo fuori fase di almeno un quarto d'ora 20 minuti nel senso che c'era più luce del solito per essere il periodo che era e poi insomma io ho letto su alcuni articoli che molto probabilmente scusami no dico ormai come fai a fare solo questi conti c'è l'ora legale no 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 ma questo è successo un mese e mezzo fa un mese e mezzo fa guardando ripetutamente il tramonto mi rendevo conto che la luce proprio del sole si allontanava sempre più in là degli anni passati cioè mentre magari ne so a un quarto alle 5 per dire un quarto alle 16 e 45 prima era già buio diventava buio alle 17 capito c'era un quarto d'ora di spasatura secondo me poi ho scoperto tra l'altro che c'era scritto su alcuni giornali su alcune riviste che probabilmente proprio il fatto che c'era il fermarsi di questa rotazione del nucleo poteva aver creato anche uno scompenso temporale nel senso che comunque sia anche il pianeta poteva essersi mosso in maniera differente insomma e quindi poteva aver allungato accorciato determinate poi non so quanto fosse vero questa teoria però insomma era una cosa che mi sono trovato in coincidenza però il fatto di questi animali che giravano sullo stesso scusa stavo ragionando su proprio l'ipotesi che proponi più che mosso si diversamente per avere l'effetto che dici tu che la giornata si allunga sostanzialmente dovrebbe aver rallentato un po' esatto la rotazione esatto 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 e mettevano in correlazione queste due cose perché molto probabilmente non me ne ero accorto solo io quindi magari anche qualcun altro aveva visto la stessa cosa però ecco questi animali che girano in cerchio insomma che si vedono un po' ovunque adesso perché prima era soltanto una situazione poi è uscito un'altra in Cina poi sono uscite decine di questi video quindi insomma potrebbe essere anche quello un effetto del del fermarsi del nucleo del problema magnetico no allora pensa avevo un po' indagato su questa cosa quando giravano tutti questi video ed ero solo risalito al fatto che i video in realtà anche se giravano tutti in quel momento erano presi in momenti molto diversi dopo di che gli animali possono fare di queste cose strane come quando vediamo un gran numero di animali della stessa specie e gli altri per esempio spiaggiarsi parlo di pesci o delfini quando a volte li troviamo a volte anche delfini sono stati che ancora peggio perché sono mammiferi ma sono parecchio più intelligenti di un pesce normale però è capitato pure con gli uccelli che si schiantavano pure morti improvvise la morte improvvisa in realtà forse sono altre cose però il fatto dello sbandamento è dato banalmente dal fatto che uccelli e pesci e diversi animali pipistrelli pure si orientano con il campo addirittura alcuni dicono che sentano proprio le ley line le linee energetiche ma di sicuro si orientano col campo elettromagnetico alcuni pure utilizzando addirittura la trazione gravitazionale quindi pensiamo solo alla risonanza Schumann come è variata negli ultimi anni da 8 Hz da toccare punte di 30 per restare adesso mi sa intorno ai 24 25 insomma è comunque è triplicata quadruplicata queste cose noi ormai abbiamo altri sistemi tipo quello GPS satellitare eccetera che però tengono conto di questi sfalsamenti infatti chi ci lavora continuamente aggiorna le situazioni però gli animali invece ne possono risentire e per fare per dire il formicaio che gira con le fermiche così può esserci anche banalmente forse una delle spiegazioni scientifiche più classiche è quello che può accadere in terreni dove ci sono pietre particolarmente magnetizzate che appunto danno un fastidio all'animale e che quindi rende a far questa cosa però per esempio ci sono religioni intere che girano in una stessa maniera per cui potrebbe avere ma anche i bambini piccoli girano in una maniera anche però hai fatto caso che ci sono chi gira in senso orario chi gira in senso anti-orario quando si è fatto quell'esperimento con le formiche che si è messo al centro un cellulare che chiaramente crea perché è una batteria un piccolo campo magnetico e le formiche hanno cominciato a girarsi intorno in senso anti-orario mi sembra se non erro quindi insomma anche su questo bisognerebbe un attimino comprendere perché girare da una parte allora una cosa sola però così lo diciamo a tutti i nostri amici quando girano il caffè il tè o quello che girate quello che bevete mescolando girate sempre e soltanto a verso del nostro universo che è il senso orario quindi girate in quella maniera perché state dando energia a livello sottile nell'altra no non mi chiedete perché però è così però voi potete osservare questo sfido chiedetelo a tutte le mamme a tutti i papà guardate un bambino piccolo che prende a girare o guardate i tervisci non girerà mai in senso anti-orario gira in senso orario ma non una volta lo vedrete mille volte girare gira sempre in senso orario è il modo è il modo della natura quindi sì poi i bambini poi magari si scocciano prende a giocare in tutti e due i versi però istintivamente va da quella parte là sì sì sono d'accordo così come noi istintivamente scusa chiudo però tutti noi frontalmente a noi stessi noi quando pensiamo il futuro lo pensiamo alla nostra sinistra e quando pensiamo il passato lo pensiamo alla nostra destra no? cioè non so perché però è così è vero è vero senti una cosa che ti volevo chiedere sempre riguardante proprio la seconda scossa in Turchia dipende poi dagli emisferi però se fate la prova a casa certo dipende sempre da dove sei certo sei destra un mancino ti volevo parlare proprio della seconda scossa che c'è stata in Turchia pochi giorni fa è stata anche questa preceduta da quelle che ormai tra l'altro adesso hanno proprio un nome loro si chiamano luci sismiche che è affascinante come noi che sarebbero poi questi strani fenomeni luminosi che avvengono in tutti quei terremoti che vanno dal quinto grado in su della scala Richter sotto no ma sopra sicuramente è successo più volte che c'era questa coincidenza luci suoni sappiamo quanto sono collegati fra loro ecco secondo te soprattutto frequenze perché poi insomma adesso ascolteremo insieme anche un paio di frequenze che secondo me sarà molto interessante ascoltare insieme però ecco secondo te potrebbe essere frutto di queste famose onde elf bassa frequenza che sono assolutamente in grado di fare questo si propagano lentamente ma con risuonare risuonare possono far oscillare anche grandi masse assolutamente allora ti rispondo a pezzi secondo me l'essere umano sempre citato nei reparti segreti o in qualche azienda privata che collabora con hanno hanno allo studio da decenni ma appunto pensate al fatto che anche il buono Ighina italiano era già capace di agire sul meteo qui si tratta di agire su fenomeni che richiedono però semplicemente più soldi perché tecnologie più costose che però sono l'ipotesi c'è già in giro che questa sia stata una senosonora lezione del fatto che Erdogan non si sia piegato ai voleri americani e che quindi ovviamente a livello del potice ma che senso ha fare una cosa di queste indotta per punire quella nazione se poi quelli neanche lo sanno che siamo stati noi a farlo e non è vero perché ovviamente non lo sanno tutti nel Parlamento ma quei pochi che devono sapere lo sanno e sono quei pochi che tirano le fila quindi questa tenetevela là se adesso vedete Erdogan che improvvisamente diventa filo americano o di che forse qualcosa sotto c'è però per rispondere diciamo citare la scienza quella con l'ac e quella senza però relativamente a luce e suoni in momenti di terremoti come dicevamo infatti io non avrei saputo citare i gradi della scala Richter però viene detto per i terremoti di grande intensità quando appunto grandi masse di terra anche non in profondità impattano o comunque si collidono sostanzialmente sempre per frizione si può creare dell'elettricità e anche le nuvole che vengono viste strane in quei casi alcuni dicono che potrebbe essere un addensamento perché per esempio se si fanno delle grandi spaccature potrebbe esserci addirittura in alcuni casi dicono del vapore e quindi andrebbe poi a condensare là sopra quindi non lo so ecco diciamo così è molto semplice per chi volesse barare è come nel caso degli uragani no? perché gli uragani esistono in natura ma se io un domani o oggi vi potessi dimostrare senza ombra di dubbio che l'America o la Russia o la Cina qualcuno ha la tecnologia per creare un uragano o eventualmente per dirigerlo o per dissiparlo allora a quel punto è sempre legittimo chiedersi se come perché proprio sempre perché anche se se c'è quella tecnologia anche se io non l'ho creato l'uragano potrei dissiparlo potrei spostarlo in mare aperto invece che davanti a una città se questo non viene fatto e questa tecnologia esiste io sono sempre abilitato almeno a pensare male stessa cosa io sono convinto che esistano appunto cioè queste tecnologie come le onde elf esistono vengono utilizzate anche per scopi industriali su base piccola per cui basterebbe metterci di nuovo più soldi e creare macchinari più grandi per avere l'effetto più più grande per cui chi mi riede a me almeno di pensare male certo certo assolutamente poi tra l'altro guarda faccio una piccola premessa quando parliamo di onde elf no viene anche alla mente quel famoso am non so se magari ne avete mai sentito parlare però è quel suono a bassa frequenza registrato tra l'altro in molte parti del mondo no e sembra che abbiano una stretta correlazione almeno per me io sono convinto che abbiano una stretta correlazione queste due cose chiaramente noi abbiamo visto un sacco di video dove si sentono i famosi suoni che provengono dal cielo eccetera eccetera prendete sempre in considerazione che il 90 95% di quei video sono falsi anche perché voi sentite lo stesso audio montato su video differenti insomma quindi è molto facile anche comprenderlo perché poi estrapolare l'audio da un video ci vogliono due minuti insomma non è che ci voglia chissà quale operazione però insomma bisogna dire una cosa che ci sono dei video e ci sono dei suoni che sono stati registrati questo famoso AM poi sarebbe il famoso UM detto in italiano che sembra tra l'altro lavorare a basse frequenze ed è esattamente le basse frequenze con cui lavora il nostro cervello tanto è vero che sembra che il nostro cervello tenda a sincronizzarsi su queste onde le famose onde ELF ora questo chiaramente ha causato molto spesso anche dei problemi a livello di disturbi psichici perché è successo più volte anche importanti ci sono dei casi che sono stati proprio accertati di cui vorrei parlare con te ad esempio ce n'è stato uno a fine anni 70 nella città di Bristol quindi stiamo parlando anche di una città di una certa importanza ci sono stati casi di depressione disturbi mentali e ci fu addirittura un suicidio a causa di questo AM io ora ti faccio ascoltare l'audio originale di quel suono che chiaramente ha fatto impazzire mezza città e che fu registrato è vero sono riuscito a trovarlo e fu registrato dalla BBC quindi insomma è proprio l'audio originale quindi lo sentiamo un attimo insieme chiaramente se state col cellulare è molto probabile che lo sentiate molto basso perché sono frequenze molto basse poi considerate che questa è stata una registrazione di fine anni 70 poi ne sentiremo un'altra a Oakland del 2004 che magari si senta ancora meglio però intanto per darvi un'idea intanto proviamo a sentire ok questo era il classico suono voi provate a immaginare avere questa frequenza nelle orecchie per insomma x tempo soprattutto nella notte diventa veramente una cosa disturbante insomma sembra che abbia portato addirittura ad un suicidio a vari disturbi psichici e poi disturbi del sonno depressione e quant'altro ecco cosa ne pensi tu potrebbe essere frutto della sperimentazione di una popolazione ignara d'altronde voglio dire i popoli anglosassoni ci hanno abituato più di una volta a fare esperimenti sul proprio popolo l'abbiamo visto anche con tante altre cose potrebbe essere questa anche una prova per vedere in che modo possono concentrare queste frequenze e come possono disturbare un posto una situazione una città un paese sapendo poi che da chi è governato quel paese è un certo tipo di elite però ecco sai pensavo a una riflessione che mi viene magari mi piace se la condivido però volendo banalizzare no? e poi invece anche nella banalità c'è alla fine la verità uno potrebbe dire ah quel rumore ma vabbè ma che cos'è di così dannoso come fa a essere così dannoso mi ricordava quasi un motore diesel no? e perché il motore diesel che cos'è? non genera pure quello un campo elettromagnetico? voi pensate che ci faccia bene questo di nuovo torniamo a qualche mezz'ora fa siamo abituati troppo a tutto questo eh voi pensate veramente al camionista e io ho fatto il corriere quindi so di che parlo a stare tutto il giorno sul furgone diesel dopo la sera dopo la sera va andare via a casa e per sbaglio abiti in un momento di puro silenzio è una goduria è come quando la signora con le scarpe strette se le toglie la sera che bello e non percepisci ma è stato quel ronzio tutto il giorno per alcuni poi diventa un mal di testa altri non gli viene però l'effetto lo fa lo stesso e quella cosa lì è esattamente se ci pensate la stessa cosa e hanno un effetto enorme su di noi io l'altro anzi ieri proprio ho fatto una puntata con Stefano insomma un amico il direttore del Monroe Institute Italia e un altro amico Gianluca abbiamo parlato proprio di frequenze e di ecco il Monroe Institute per dire ci ha fatto uno studio quello americano poi quello italiano pure che dura da decenni su questo e su quanto le frequenze influiscono e pensate un po' da dove arriva tutto questo facciamo un salto alla nostra ancestralità uno anche con le frequenze del Monroe che in quel caso sono positive però ma pensate anche ai file che troviamo su stesso YouTube no? a volte quelli per la meditazione eccetera ci sono queste basse frequenze costanti o con piccole variazioni no? un qualcosa tipo che cosa ho imitato più o meno io tempo fa stavo in Giordania nel deserto e forse a un beduino a un berbero che ci vive da sempre nel deserto senza le influenze dei campi magnetici per andare in meditazione basta sentire il soffio del vento che in un certo senso fa pure delle anzi senza un certo senso produce delle frequenze no? quando ci sbatte nell'orecchio e forse pure quello non è a caso pure quello ha un effetto dentro di noi solo che quanti di noi vanno a fare bagni di onde benefiche nel deserto spesso e quanti di noi stanno col motore diesel spesso dentro l'orecchio pensa in un paese dove oltre al motore diesel tu c'hai quella di sottofondo io sono convinto che le frequenze hanno anche un potere benefico sul nostro corpo voglio dire questo ormai è riconosciuto anche penso da un punto di vista piuttosto scientifico però sappiamo anche che il cervello lavora su frequenze molto basse e quindi oggi un satellite ad esempio sarebbe capace di comunicare con il nostro cervello tranquillamente perché può diciamo sintonizzarsi su quelle frequenze quindi questo suono insomma può creare veramente degli scompensi importanti tu considera negli anni 90 ad esempio accadde la stessa cosa anche a Taos che è una cittadina del New Messico anche qui la gente si lamentava perché c'era questo famoso suono sordo soprattutto di notte li svegliavano gli permetteva di riposare quindi anche questo è un danno di cui si può immaginare l'identità stiamo parlando di centinaia di persone non è che sto parlando di due o tre persone che percepivano questo suono poi a fine degli anni 90 la stessa cosa accadde a Kokomo che è una piccola cittadina dell'Indiana poi guarda caso siamo sempre negli Stati Uniti qui furono fatti addirittura fu chiamato qualcuno per fare dei rilevamenti acustici e confermarono che un suono a bassa frequenza guarda caso proveniva dal sottosuolo uno dei più recenti è quello che è successo ad Auckland quindi stiamo parlando proprio di una città perché stiamo parlando di Nuova Zelanda e accadde nel 2006 anche qui furono fatte delle registrazioni furono confermate queste basse frequenze adesso ti faccio sentire il suono originale registrato ad Auckland chiaramente qui c'è una qualità maggiore anche perché stiamo parlando del 2006 fino agli anni 70 è chiaro no? e quindi magari sentiamocela un momento insieme poi anche per renderci conto insomma quante sono simili con la frequenza qua lo chiamano buzz ad esempio come vuoi vedere è veramente bassissimo questo sono frequenze veramente molto molto basse quindi insomma arrivano direttamente al cervello ora ci sono stati dei ricercatori che parlano anche di suoni provenienti dal sottosuolo perché proprio nel sottosuolo ci sarebbe secondo alcuni ricercatori ma insomma penso anche tu ne avrai parlato e anch'io ne avrò parlato insomma ne ho parlato più di una volta ci sarebbe parecchio fermento sotto il nostro sottosuolo ci sono basi militari quindi basi umani ci sarebbero anche altri tipi di basi che molto probabilmente non sono stati strettamente militari potrebbe essere una spiegazione che questo suono provenga dal basso a causa di questo pullulare di vita nel sottosuolo allora beh prima dico una cosa addirittura che magari pure non tutti ci abbiamo pensato se si vuole usare qualche cosa come arma per colpire l'essere umano nei propri sensi pensateci se io vi voglio avvelenare con una nube di gas voi potete tapparvi il naso certo poi dovete respirare ma per un po' potete difendervi potete chiudere la vostra bocca se io vi voglio far vedere delle immagini potete chiudere gli occhi è inutile che fate così se c'è un suono basso che viene emesso una frequenza non la fermi non abbiamo difesa contro questo per dire no possono mettere le immagini subliminali nei film e uno può chiudere la televisione ma da quello non ti dipende anche nella televisione si dice che ci sia a volte soprattutto forse in quelle moderne magari messo appositamente o in certi programmi certi programmi se ci fate caso certa roba thriller sembra veramente che usano delle musiche e alla base di quelle musiche c'è una malefica frequenza che sta lì non si capisce perché e a me mi nervosisce sempre questa cosa quindi mi dà proprio e credo che quel mio diventare nervoso sia un feedback organico che mi dice che quella roba non è sana e di nuovo mi sono scordato quello che mi hai chiesto che mi hai chiesto no dicevo no siccome questi questi suoni in molti casi allora noi abbiamo questo ham che sarebbe questo che poi insomma se tu senti i testimoni te lo fanno proprio te lo fanno perché questo è il suono che sentono una bassissima frequenza che chiaramente dà fastidio soprattutto in piena notte a volte ci sono stati dei forti boom nel sottosuolo telegiornali soprattutto in America insomma se ne è parlato tantissimo di questi fortissimi di queste fortissime esplosioni che hanno smosso anche le telecamere quelle che sono fisse diciamo magari che guardano all'esterno che hanno magari un controllo della propria casa del periodo della propria casa quindi insomma c'è anche un movimento dell'unico dopo questo boom e il famoso hum che sono tutti i suoni che provengono dal sottosuolo siccome ci sono tanti ricercatori che parlano insomma abbiamo parlato anche io e te insomma c'è questa teoria in cui sotto di noi si pullola la vita sia nostra sia non nostra diciamo sia basi segrete militari sia altro tipo di basi che probabilmente nel sottosuolo hanno trovato uno spazio che gli permette insomma di essere abbastanza discreti potrebbe essere questa una spiegazione secondo me sì e sono della tua stessa idea e dico due cose a corroborare sulle basi segrete se mi permetti un'ultima cosa rispetto a quello che dicevamo ho visto una domanda di Silvia Azzurra che dice le piante possono funzionare da assorbenti quindi ovviamente delle radiazioni quindi invece per dire le piante forse sì un po' tant'è che danno fastidio pensate al G al 5G sono tagliate però questo per dirlo anche in ambito aereo spaziale lo stanno facendo la migliore protezione da qualsiasi onda che voi potete immaginare la potete realizzare così quindi poi è fattibile non è impossibile però è una roba strana me ne rendo conto però per farvi capire se voi voleste una stanza dove nessuna onda vi viene a dare fastidio ma nessuna potreste realizzarla dentro casa vostra facendo come faranno nello spazio con uno strato un layer di acqua quindi voi immaginatevi le vostre quattro pareti con un acquario di 5 cm d'acqua che va da sotto a sopra a quel punto state protettissimi punto tornando alle basi invece alla tua domanda sì io pure sono convintissimo che esistano o meglio per quanto mi riguarda l'esistenza di vita sotto la terra al di fuori delle basi che esistano proprio altre civiltà ora ne discutiamo se vuoi e ti rispondo e ne possiamo parlare eventualmente ma che esistano basi anche grandissime e anche a non modesta profondità io sono convintissimo quando dico non modesta intendo anche basi a 40 km sotto terra che è una profondità che ufficialmente non è mai stata raggiunta neanche da uno scavo no ufficialmente però questo da sempre ci viene detto e infatti sarebbe possibile non è non dobbiamo per forza ritenere che tutto sia stato scavato artificialmente dall'uomo a 40 km di profondità ci sono ricerche senza l'ambito militare senza i complottisti ci sono ricerche delle università in questo caso erano inglesi io non mi ricordo se Cambridge o una di queste più prestigiose però hanno tra le altre anche lì anche ricerche giapponesi hanno confermato l'esistenza all'interno di tutta la grossa del pianeta di cavità enormi che sono poi state fatte in realtà in tempi lontanissimi vengono chiamati lava tube cioè sono stati fatti dalle eruzioni vulcaniche che quando in tempi antichissimi colavano questi fiumi di lava liquida anche sotterranei pensate dalla falda di magma nel risalire la lava stessa si scavava un tunnel pensate a un qualche cosa di liquido e rovente in un certo senso lo cicatrizza pure il terreno quindi lascia letteralmente il buco dietro di sé poi la lava solidifica però otteniamo questi tubi e ci viene spesso raccontato che infatti in realtà si parte da quelli poi ovviamente si allargano si strutturano in base alle esigenze però per darvi un'idea delle cavità trovate dalle università si parla di cavità letteralmente di mondi sotterranei mondi sotterranei perché immaginate di uscire da una grotta cioè di percorrere una grotta e da un certo punto la grotta si affaccia e voi vedete una cavità così sono descritte eh grande come la Toscana quindi chilometri da percorrere in auto e con all'interno montagne molto più alte del nostro Everest quindi cavità gigantesche che contengono quelle montagne cavità così grandi che hanno all'interno un loro clima ci si formano le nuvole dentro per condensa e ci piove dentro quindi perfettamente fruibili e come dire adattabili utilizzabili per eventualmente stabilirci si si ma tra l'altro ce n'è uscita anche una da poco in Cina che è stata scoperta proprio in Cina dove c'era questa cavità dove c'era di tutto praticamente c'era da un intero un microsistema proprio singolare all'interno perché c'erano piante c'erano animali si creava anche un certo tipo di eh come dire di pioggia no all'interno di queste cavità enormi quindi insomma esisteva un mondo all'interno del mondo insomma queste caverne sono state scoperte e queste in Cina insomma sembra veramente gigantesca esistono esistono ci sono posti fantastici con dei cristalli enormi 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 ora chiaramente a conferma del fatto che questi lampi di luce no queste queste luci sismiche come le vogliono chiamare no e questo rumore sordo sembrano avere una correlazione io ti mostro un vecchio video che fece all'epoca Mazzucco che io sono riuscito a ripescare ce l'avevo qui in archivio ma insomma per trovarlo sono diventato pazzo dove non solo si sente questo suono forte no ma lo si sente smettere proprio guarda caso nel momento in cui c'è un lampo blu nel cielo no quindi questo è veramente un caso forse unico te lo mostro così poi ne parliamo insieme I don't like how close that thing is. Oh, man. I hear the wind. Get the kids in the bathroom. Kids! That's getting close. Jesus, Jesus. This is not good, y'all. No, I don't see anything yet. Why is there nothing on the TV? It's on the ground for sure. I feel it. Why don't you get me the wind? Uh, yes, ma'am. Has there been any reports of any tornadoes out toward the airport? Because it's really, really loud out here. I'm on Spring Hill Road on Walnut Road Lane. It's about three miles south on Spring Hill Road. and it has just been going on for a long time. Sorry, I'm shaking. Okay, I don't... Okay. Okay, thank you so much. I don't hear it anymore, Tim. Oh, thank you, Jesus. Assurdo. Lo ho analizzato proprio, lo guardavo in modo tecnico, ho visto diversi dettagli che mi verrebbe di commentare. Sì, no, quello che lascia proprio sbicottiti è il fatto che questo suono è fortissimo. No, poi la persona dice viene dal sottosuolo, chiaramente è talmente spaventata che chiama la polizia. E la cosa incredibile è che arriva questo lampo, che non è seguito affatto da un tuono, come ne parlavamo prima, e subito dopo questo lampo il suono muore, sbanisce nel nulla. Il suono viene dal sottosuolo, il lampo viene chiaramente in cielo, si vede proprio questo lampo nel cielo. Insomma, lascia abbastanza sbicottiti. Sto cercando di dare una spiegazione, ti dico quello che ho visto. Ho sentito il rumore, il rumore è il rumore di qualche cosa che squarcia le molecole dell'atmosfera. La signora in realtà dice due volte che no, non lo vedo, non sembra che stia arrivando, quindi si aspetta il tornado. Però le cime di quegli alberi non si muovono neanche poco, cioè non c'è manco venticello, il che è strano. In quel momento piove, io veramente ho visto il video completo, in quel momento sta piovendo, quindi... Ok. Ma la pioggiarella è molto semplice, nulla di... non è certo di un huracano, né... Allora, io non l'ho sentita infatti la pioggia, però appena poi finisce il rumore, c'è il fulmine, finisce il rumore e sembra che comincia a piovere. Si sente. Il rumore della pioggia era coperto da questo rumore, quindi quando il rumore cessa tu senti il rumore della pioggia subito dopo. Ok, posso... vado per un'analisi cicappiana, nel senso che da bravo ricercatore, escludendo quelli del cicap, uno prima esclude le cose possibili, no? Quindi invece potrebbe essere... beh, lui ha detto la casa stava tremando, c'era il terremoto lì. E allora, in realtà, forse è spiegabile tutto quanto, perché il terremoto può creare quel tipo di rumore mentre accade. Certo è strano che sia durato così tanto, ma io non so. Eh, cioè, a parte sarebbe carolato tutto, no? Perché insomma poi l'intensità del suono era talmente forte che dovrebbe esserci un terremoto altrettanto forte. Non lo so, noi in Italia non siamo abituati, io mi sono trovato in Perù, stavo in un mercato coperto in Perù durante un terremoto nel quale tutti, se stavano a fare una risata, hanno continuato a reggere le cose che ballavano. Io mi stavo... cioè, non avevo mai visto un terremoto di quella maniera ed è durato parecchio. Io non avevo mai visto particolarmente. Sono momenti infiniti quelli, però insomma qua parliamo di un video, chiaramente io ti ho messo uno stralcio, se lo vedi completo... No, no, aspetta, aspetta, fammi finire... cioè, scusami, se no poi me le perdo, ma... Ci potrebbero essere altre ipotesi, potrebbe essere se poniamo l'uso di qualche tecnologia, potrebbe essere una qualche forma di onda energetica che comunque va a ammassare le particelle che poi scontrandosi, perché comunque il fulmine si crea, diciamo, normalmente con due nuvole che fanno attrito una contro l'altra. Quindi se anche vuoi creare il fulmine artificialmente non è che c'hai il lampo di Zeus, capito? O tu c'hai un'arma energia diretta e la spari direttamente oppure per fare un vero fulmine in maniera artificiale devi fare artificialmente scontrare due nuvole dove ti è conveniente. però se, ripeto, il geologo ti dice che quando... però è casualmente tanto comoda questa spiegazione perché il geologo ti dice che quando si apre la terra ci possono essere fuoriuscite gassose, metano, vapore acque, eccetera che possono formare una sorta di condensa che potrebbe dare adito a... però non spiega la luce, spiega la nuvola, ma non spiega il rumore. Ma poi anche la contemporaneità, no? Arriva questo lampo di luce e smette il suono. Ma ugualmente, come diceva l'Abruzzese, funziona pure all'Amerz, cioè se io uso l'arma energia diretta ugualmente poi se apre la terra, se c'è la fuoriuscita gassose, se crea la nuvoletta eventualmente pure i fulmini. Quindi è veramente difficile poter arrivare alla fine. Sì, sì, sì. Però insomma, voglio dire, no? Qui si parla di luci sismiche, si parla di terremoti, suoni a bassa frequenza dal sottosuolo, ci sono installazioni ARP, no? Penso che sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, colmai stanno un po' dappertutto. Possiamo dire che invece che essere, insomma, fare discorsi da complottisti stiamo cercando un po' di unire i punti e mi sembra anche abbastanza semplice farlo, insomma, non è che serva proprio un astrofisico, no? Per fare questo tipo di operazione, perché basta avere un po' di lungimiranza e di intelligenza per riuscire a mettere insieme determinate cose che sembrano per forza di cose essere correllate fra loro, non credi? La logica ci aiuta. Anticamente si diceva che ci sono due modi per capire le cose. O uno fa l'esperienza diretta, oppure ci si arriva, una volta si diceva, con il fine ragionamento. Cioè la logica ti aiuta, no? A capire delle cose. Per cui sì, qualche cosa possiamo, ecco, possiamo almeno scremare un po' di ipotesi. Sì, ma poi c'è quest'altro fenomeno, tra l'altro, che si vede spesso, che è quello del fatto del mare che si ritira, no? Sta succedendo molto spesso questo, dove si vede il mare che si ritira anche di 10 metri, di 8 metri, no? Adesso noi abbiamo visto, ad esempio ultimamente, c'è un video che sta un po' impazzando tra il Libano e Israele, perché proprio sabato scorso, 19, i pescatori locali hanno registrato un video, vabbè, guarda, te lo mostro così almeno. Tra una settimana in Israele. Ecco, guarda, te lo mostro tra... tanto dura 40 secondi, dove praticamente c'è questa situazione che i pescatori si sono trovati di fronte e sono rimasti un po' sbicottiti, perché il tutto poi sarebbe successo nell'arco di poche ore, insomma, no? Ecco qua, qui c'era il mare, come vedi, no? E praticamente il mare non c'è più, e sembra che il mare, se si è ritirato, hanno preso una misurazione, chiaramente, più o meno di 20 metri, 20 metri, ok? Io so perché. Quindi, insomma, siccome anche questo è un qualcosa che sta accadendo più e più volte, e non soltanto a Israele, ma è successo in Australia, è successo in tantissimi posti, insomma, no? Quindi non è una questione locale. Tu cosa ne pensi? Ma, vedi, stanno spostando la Luna, facendo delle prove tecniche per spostarla nella maniera ideale, artificialmente, per proteggerci dalle radiazioni che riceveremo quando ci sarà l'evento solare. Questa è una delle ipotesi. Questa mi ha lasciato a bocca aperta, ti dico la verità. Lo so, l'ho detta apposta con un falso tono di serietà. Però, nell'ufologia, invece, si racconta proprio quei... No, io dico sempre sto termine vago, però alcuni canali raccontano questa narrativa, che ci sarebbe uno sforzo enorme, congiunto, alieno, terrestre, sapendo che il Sole farà le bizze, e questo è un dato di fatto che il Sole ha i suoi cicli e ci sarà un ciclo più forte, e c'è stato un effetto Carrington, un evento Carrington, ci sono stati momenti anche recenti in cui il Sole, con una bella botta elettromagnetica, ci ha distrutto tutto quello che c'era di elettrico, ma al tempo ce n'era poco, adesso ci viviamo con la tecnologia. E c'è chi dice che starebbero, e quindi da qui, se questo è vero, la Luna dovrebbe essere per forza un'astronave artificiale, la starebbero spostando per metterla nel migliore dei modi, per fare da eclissi, per proteggerci in vista di questo evento, quindi per mettere alla Luna a fare da scudo tra il Sole e noi. Ma è un'ipotesi, però sappiamo sicuramente, io avevo sentito questa cosa delle stranissime maree, e ovviamente sono in correlazione con l'attività lunare, poi io adesso non so, il mio metro non ci arriva, però bisognerebbe misurare, sappiamo che la Luna è in un lentissimo, se non sbaglio, allontanamento dalla Terra, parliamo di 4 centimetri l'anno, da memoria, però magari invece questi dati, se li dovessimo andare a cercare, magari adesso sono un po' sballati, il che spiegherebbe tante, tante, tante cose. Sì, sì, hanno parlato della Luna, hanno parlato dell'asse terrestre che si sta spostando rapidamente, insomma, ce ne sono talmente tanti. Beh, ma la Luna, allora ecco, certo, poi sapete pure dell'esperimento in cui ci hanno sbattuto sopra il pezzo del rover, del Lander, e ha rimbombato per ore, però la Luna è attratta dalla gravità terrestre, gravità che è creata proprio dalla rotazione della parte interna, per cui se questo cambia, cambia pure la Luna. Immaginate se davvero, se ferma il nucleo terrestre, vediamo la Luna che una notte sale, e semplicemente se ne va, non torna più. Sarebbe un bel guaglio per tutti noi, perché insomma... Eh beh, sarebbero finite le stagioni. Eh beh, sarebbe finito proprio la vita di sua vita. La parte dell'acqua farebbe perseguirla per il primo momento, per cui non sarebbe una cosa semplice. Senti, visto che stiamo quasi un'ora e mezza, insomma, vorrei anche farti l'ultimo paio di domande, no? Visto che abbiamo parlato anche di basi sotterranee, una cosa che io ho trovato molto inquietante, che è apparsa molte volte sul web, ma a volte è apparsa anche sul mainstream, devo dire che l'ho vista anche in alcuni dei giornali, sono le immagini di questi enormi depositi, no? Dei bunker sotterranei, che da anni stanno riempiendo soprattutto di cibo e a volte anche di apparecchiature elettroniche, no? Di elettroniche, come se fosse una specie di rifugio nel quale potersi stabilire ed essere autonomi per anni, no? In caso di una qualche catastrofe, perché insomma, voglio dire, se no non metti lì tutto quel cibo. Ora ti mostro un video dove possiamo vedere questi enormi bunker, e anche come sono stati scavati, perché... No, guarda, io ne ho preso uno che si trova nel Missouri, un altro che si trova a Kansas City e un altro ancora sempre negli Stati Uniti, dove c'è addirittura il camionista che proprio si pone questa domanda, no? Si chiede proprio, dice, ma ecco, questo è il bunker dove io continuo a portare da illo tempore, insomma, cibo, 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 che loro immagazzinano e fa vedere anche poi questo magazzino, che è il numero 19, e insomma, io l'ho trovata abbastanza inquietante questa cosa qui, no? Quindi adesso magari faccio vedere, chiaramente io ho velocizzato il video anche perché ovviamente non avevo nessuna intenzione di stare qui mezz'ora a guardare, però guarda che tipo di struttura, no? Come vedi è stato scavato, ovviamente ci sono le colonne portanti che sono parte della montagna stessa, come vedi, no? Praticamente, guarda che tipo di galleria hanno fatto, insomma, questi sono depositi, dove se tu vedi non c'è niente, a parte delle grosse porte metalliche, no? Che si trovano sulla sinistra, non c'è nient'altro, no? Guarda di che struttura stiamo parlando, questa è quella che sta in Missuri, cioè, vedi quante gallerie ci sono, cioè, è una vera e propria città sotto la terra. Ma non è vero, non esistono. Eh, non esistono. Questa invece è quella che sta sotto Kansas City, è un'altra grandissima struttura dove questi camion continuano a portare costantemente un po' di apparecchiatura elettronica, ma soprattutto tanto, tanto, tanti generi alimentari, quindi tanto cibo, che accumulano e mettono all'interno di... E anche qui, insomma, puoi vedere scavata nella roccia, come puoi vedere, insomma, la colonna portante è fatta direttamente dalla roccia stessa, quindi è stata strutturata anche molto, molto bene, forse questa anche meglio dell'altra è stata strutturata. E però, insomma, come vedi, siamo di nuovo in una struttura gigantesca, sotterranea. Questa è un'altra base ancora, sempre in America, e adesso vedrai che il camionista si ferma, regolamente ho dovuto togliere l'audio perché c'era una musica, se no poi ci sarebbero stati problemi di copyright e quant'altro, no? Però il camionista praticamente dice, facendosi anche una specie di... Eccolo, cerca proprio di spiegare che sta facendo questo tipo di operazione da mesi e mesi, lui porta questo cibo, ecco, guardate che tipo di camion, insomma, no? E il tutto viene immagazzinato in un bunker, chiuso da una porta metallica, che adesso vedrete che è col numero 19, eccolo qua, dove viene praticamente... viene fatto lo stoccaggio di tutto questo materiale, no? Ecco tu, quando vedi cose del genere, no? Che ti viene da pensare, sinceramente? C'è Roberto che scrive, mi raccomando, le cartine, giustamente per non perdersi in un posto grande come quello. Giustamente, sì. Eh, beh, che pensare... Bel video, devo dire, interessante. Una domanda... Ce ne sono tantissime, ce ne sono decine di questi video, eh? L'hanno fatto vedere anche ad alcuni delle giornali americani, insomma, tranquillamente, che mostravano questi camion, che entravano dentro queste strutture, insomma, hanno fatto vedere come erano interamente... Allora, le risposte ce ne sono, ehm... Uno, la più semplice, no? Stoccano per avere scorte per momenti di crisi, ma non solo. Si fanno banche genetiche di tutto ciò che c'è sul pianeta, perché veramente... Comunque, in generale, appunto, i governi ce li hanno i piani B, eppure i piani C, eppure i piani D. Quindi, appunto, non sono cose che stanno lì a pubblicizzare, però prevedono alcune eventualità. E hanno semi di qualsiasi... C'è, appunto, tu hai fatto vedere quelli in America, io mi ricordo che alle isole Svalbard c'è un qualche cosa di simile per il comparte europeo, nel ghiaccio, perché viene molto comodo, nel senso che il ghiaccio fa già esso stesso da frigorifero, anche in caso di calamità. Ma là c'è anche una banca dello sperma all'interno di quella struttura, mi sembra, no? Ma di tutto, come c'è il seme di tutti gli animali e delle piante, però, appunto, ecco, pensate, no, il doppio vantaggio, perché se io voglio mettere tutto questo in una di quelle enormi strutture, in celle frigorifere, se però poi arriva l'effetto Carrington, perdonate il francese, e mi fotte tutto quello che è a corrente, e lì mi si spengono i frigoriferi. Invece nel permafrost la parola stessa mi dice quello di permanefrost, pure se non c'è corrente. Per cui se la sono pensata bene. A voler, invece, vagabondare con la fantasia, uno direbbe tutte quelle strutture, magari tutto, tutto, tu sei se il lavoro con ti, perché comunque, ecco, la struttura c'è da anni, supponibilmente. Un camionista qualsiasi ti dice che sono mesi, mesi e mesi, ma poi sai portare cibo? In che senso? Io mi ricordo quando ho fatto il militare, mangiavamo carne, perché lavoravo nelle cucine, per lì fanno fare... 46, io mangiavo la carne sorgelata nel 46. Mamma mia, vedi che è vero, io stavo in Marina, era il quarto 99, aprile 99 c'era la carne del 70. Sì, sì. 75, 76. Così, perché viene tenuta per decenni, letteralmente, a meno 20, e la tengono lì. La carne, però, con i vegetali, con i pomodori, che senso ha stipare miliardi di pomodori, no? A questo punto, ecco, uno si fa un terreno, anche sottoterra stesso, con i semi, e beh, cioè, una volta che ce n'è una certa quantità. Altro discorso è se invece tu stai facendo, magari quella lì, quella struttura sottoterra, era uno dei più grossi delivero che tu hai mai visto, per esempio, e andava però in direzione sotto, invece che sopra. Può darsi, e te lo dico così, ma insomma, col sorriso, ma scherzando, fino a un certo punto, per quanto mi riguarda, esiste quello che abbiamo detto prima, quindi, c'è chi dice che... Ma voglio dire, questi sono video registrati dai camionisti stessi, che entrano in queste strutture. No, no, non parlo delle strutture, parlavo delle civiltà che abitano eventualmente a sottoterra. Ah, quelle, quelle. Ecco, per me, quelle esistono, e stavo dicendo, anzi, c'è chi dice che c'è più gente che abita all'interno, come numero di popolazione, che quelli che stanno sulla superficie, il che avrebbe senso. Se fosse vero questo, ma ovviamente non devo convincere nessuno, né ve lo voglio dimostrare, però secondo me, le antiche leggende, tante cose, secondo me esistono, esseri che si sono rifugiati lì dentro e magari erano molto simili o sono direttamente collegati con noi anche a livello genetico, se fosse così, ci sta che loro si producano le loro cose e ci sta pure che magari noi mandiamo giù prodotti e quindi a quel punto si spiegherebbe perché il camionista da mesi continua a portare giù generi deperibili, dico per dire. Chissà se portano giù pure gli insetti, Davide. Beh, stanno dove stanno ce ne trovano parecchio. Eh sì. Senti, l'ultima domanda in chiusura anche perché insomma veramente abbiamo fatto la lunga oggi, no? Non potevo chiaramente non chiederti... Cosa? Con te volano, io spero di non essere forse un po' logorroico, però mi scusate. No, 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 ma chiaramente argomenti sono tanti, è normale insomma che ci si dilunga. Poi insomma comunque sia la gente che siamo ancora 400 persone quindi insomma vuol dire che la gente gradisce, Bonta vostra. Oh, venite proprio sul canale mio, io non ne faccio mai sti numeri. Venite anche sul mio canale Evolucian e il Davide Cristallo leggete lì sotto volendo insomma. Li fai, li fai, a voglia se li fai. Senti, in chiusura ti devo fare una domanda che chiaramente va fatta, perché va fatta, quella del famoso orologio dell'Apocalisse. Tu lo sai che ultimamente a causa della situazione tesa che c'è, quella situazione internazionale che riguarda il conflitto fra Russia e Ucraina eccetera eccetera è stato portato avanti di altri 10 secondi e adesso ci troviamo praticamente a 90 secondi dalla mezzanotte. La mezzanotte sarebbe praticamente alla fine del mondo, lo sappiamo tutti. Ma secondo te tu che idea ti sei fatto di questo orologio? Perché a me mi dà veramente l'idea della classica operazione che serve appunto per tenere sempre sulla braccia la popolazione mondiale, per tenerla sempre in tensione con questa non sicurezza verso il futuro, insomma questo senso di disagio oppure effettivamente credi che possa essere un qualcosa di aderente alla realtà? Ma nel mezzo tra le due, nel senso lo dico pure magari qualcuno non lo conosce, in inglese è il doomsday clock ma è quello che hai detto tu l'orologio della fine del mondo. In realtà che cos'è? È una pagina web, dietro c'è un ufficio insomma che si procura di aggiornare questa pagina e chi ci lavora è una commissione fatta da un gruppo di scienziati con diverse discipline che quindi c'è pure per dire il politologo e c'è il sismologo e c'è il geologo quell'ambientalista che danno appunto si riuniscono periodicamente e danno il loro parere su come sta andando il mondo e quanto manca al collasso e quindi poi forniscono pareri è un ente quindi per cercare di andare invece nella direzione giusta. Per cui grazie Silvia gentilissima. L'idea però qual è? Quindi tu secondo quello che ho detto io allora è un organo affidabile dobbiamo starlo a sentire in realtà appunto è un sicuro e sincero ni perché perché come sempre accade che poi questi enti qui pensate alla Food and Drug Administration pensate all'Istituto Superiore di Sanità pensate a tante belle cose poi dipende da chi ci mette i soldi dietro no? Per cui pure non lo dico ecco non ho mai approfondito la cosa per cui non mi sono studiato i personaggi da dove arrivano eccetera mi viene da pensare che comunque anche lì questi si fanno un'agenda no? Dice allora stabiliamo quali sono i problemi del mondo di cui vogliamo parlare stabiliamo che tipo di gravità gli diamo e spostiamo sta lancetta però per esempio quei signori lì si dimenticano che in Africa ci sono 25 paesi che stanno in guerra da quando c'hanno i capelli biondi ancora e non gliene frega niente a nessuno si dimenticano che sempre in Africa per dire quelli poverini che ci abitano tirano fuori chili e chili e quintali di diamanti e non li possono vendere loro per dei contratti che risalgono all'occupazione inglese cioè c'è una marea di schifezza a sto pianeta che non gliene frega niente a nessuno questi signori ti danno la loro e come hai detto tu ogni tanto ce la danno pure lì la buttano giù dura però ecco non l'ho letto è parecchio che non ci guardo su quel sito ma sicuramente adesso diranno che è tutta colpa del leader brutto e cattivo despota pazzo quando invece noi le cose sappiamo un pochino come stanno eh sì eh sì pure quella è un parere che vale come tutti come il mio vale come uno ognuno ha la testa sua ragionasse con quella che forse è meglio però è un punto di vista pure quello tanto Francesco dice che si registrerà al tuo canale quindi insomma Francesco è una persona molto critica ma molto intelligente quindi molto spesso a noi ci piacciono eh a noi ci piacciono questi personaggi Francesco sul mio canale ti troverai in buona compagnia io appena dico una cazzata me la sgamano all'istante se mi sbaglio e mi fa molto piacere perché io mi correggo con tanto vuol dire anche che sono persone attente però no eh no sono preparatissimi sul mio canale anche qua però insomma io appunto uno si corregge con piacere perché l'idea è cercare di dire cose giuste quindi se a volte uno la dice sbagliato allora ragazzi io veramente non so come ringraziarvi siete ancora tantissimi dopo un'ora e quaranta quindi vuol dire che gli argomenti li avete graditi anche voi io chiaramente Davide non so come ringraziarti perché ti sei speso come al solito in maniera importante per darmi le risposte più mi spiace solo perché c'era il grande fratello insomma però ecco guarda sto scherzando no no però insomma ecco veramente ti devo dire che questo appuntamento con te mi sta piacendo perché riusciamo sempre a tirare fuori argomentazioni che magari ogni volta tutti li fuori delle cose che io magari insomma non conoscevo e quindi a me fa estremamente piacere quindi magari la prossima volta se ti farà piacere parlare della luna e di tutto quello che concerne tutto il mondo che c'è intorno a questa luna tutte le vicende no aliene non sarebbe sarebbe bello parlarne una sera insomma magari aprirci proprio una puntata no allora come si fa come si fa al ristorante a patto che poi vieni pure tu da me perché mi hai invitato troppe volte assolutamente con gran piacere con gran piacere e comunque sì assolutamente volentieri io ringrazio te grazie Davide grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie veramente perché siete ancora quasi 400 persone qui insomma non me l'aspetto certo alle alle 11 un quarto di un qualsiasi giovedì insomma grazie veramente di cuore siete straordinari voi straordinario Davide noi domani ci vediamo con un nuovo ricercatore cioè un nuovo ricercatore un ricercatore che invece ha fatto veramente ricerca sui posti ha girato mezzo mondo un ricercatore UFO veramente incredibile e sentirete parlare di storie personalmente vissute e che mi ha contattato e che ho veramente il piacere di ospitare qui perché finalmente sentiremo anche una voce alternativa poi magari un giorno faremo anche una puntata insieme a Cristallo perché insomma tra ricercatori è bello sentire anche campane differenti lui è uno che proprio stava sul campo insomma c'è stato per 12 anni 13 anni ha girato mezzo mondo è una persona non lo sai non lo sai non lo sai questo non lo sai non è un contatto è una sorpresa è una sorpresa la lascio per domani comunque non dico niente ma è un contatto comune no 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 ah capito chi mi riferite grazie di cuore di cuore eh no guarda è una persona è un ragazzo poi comunque insomma è un uomo però è una persona che mi ha contattato mi ha dimostrato veramente che ha fatto delle cose molto molto belle insomma lui curava anche dei grossi forum curava scriveva su importanti riviste insomma ha girato mezzo mondo proprio a fare ricerca sul campo con tanto di attrezzatura per cercare di capire che cosa si potesse trattare quindi avere la possibilità di parlare con questo tipo di ricercatore no che magari ha girato mezzo mondo e che ha eh toccato con mano quello che potrebbe essere una situazione è sempre più interessante no perché comunque sia sono sempre ipotesi però se non altro lui c'è stato lì quindi ha visto e con i suoi occhi magari ci potrà raccontare quello che è stata la sua impressione chiaramente grazie ancora di cuore grazie a tutti grazie Davide a domani grazie mille grazie a tutti